Ciao a tutti e bentornati in cucina con Agnese, la settimana di carnevale è alle porte e allora oggi prepariamo insieme i tortelli di carnevale. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 3 uova medie, la scorsa grattugiata di un limone, 130 ml di acqua, 150 g di farina, 40 g di zucchero, più quello che ci servirà andare a ricoprire i nostri tortelli una volta fritti, sì perché oggi si frigge ve lo dico, 60 g di burro, 2 cucchiai di grappa o potete scegliere anche il rum e un pizzico di sale. Il fornello è pronto, la pentola pure e allora mettiamoci subito a cucinare. In questa piccola cassevola andiamo ad aggiungere in sequenza l'acqua, lo zucchero, il sale e il burro. Accendiamo il gas, iniziamo a mescolare e portiamo quasi a bollore. Questa ricetta è praticamente la pasta ciù, ma in realtà la friggeremo e non la metteremo al forno questa volta. Questi tortelli sono gururiosi ancora di più se poi farciti di crema pasticcera, che ve lo dico a fare. Lasciamo sciogliere bene il burro e lo zucchero, il sale idem e ci vediamo fra 3-4 minuti. Dimenticavo anche di dirvi che nel frattempo aggiungete anche la scorza grattugiata di un limone, così che andrà a insaporire bene il nostro composto. Aggiungiamo a questo punto la farina tutta in una volta. Abbassiamo il gas e iniziamo a mescolare bene. Dobbiamo ottenere un composto bello omogeneo e non si deverà vedere più nessun pezzo di farina bianco, come in questo caso. Mescolate qualche minuto. Io uso una pentola antiaderente in questo caso, se usate qualsiasi altra pentola, il composto poi dovrà staccarsi da solo dalle pareti. Il nostro impasto è pronto, trasferiamolo ora in una ciotola. Ora, se avete una ciotola, trasferite pure l'impasto nella ciotola, utilizzate un cucchiaio di legno, va bene lo stesso, lasciate intiepidire l'impasto per una mezz'oretta circa, perché le uova non dovranno cuocersi. Io ho fatto l'esperimento di provare la planetaria, mi sono trovata benissimo. Ho quindi trasferito l'impasto nella planetaria, utilizzando il gancio a foglia, per chi utilizzerà la planetaria. Dobbiamo lasciare intiepidire l'impasto per circa 3 minuti, a velocità minima. Quindi cosa ho fatto? Ho messo l'impasto, faccio partire il robot a velocità minima, anzi, alla minima del tutto, per circa 3 minuti, e poi andremo ad aggiungere le uova e la grappa. Lasciamolo intiepidire perché sta uscendo il fumo, lo sento proprio. Il nostro impasto si è intiepidito bene, ora dobbiamo aggiungere le uova. Mi raccomando, un uovo alla volta, lasciate assorbire bene il primo uovo, prima di aggiungere il secondo. Aumentiamo pure la velocità un pochettino. Possiamo aggiungere il secondo. E ora il terzo. Aggiungiamo anche la grappa e facciamo finire di impastare la planetaria. Dobbiamo ottenere un composto bello liscio e omogeneo. Eccoci qui, il nostro impasto è pronto per essere fritto. Spostiamoci ai fornelli e non ci resta altro che friggere tutti insieme. Mi raccomando, non l'ho detto nella lista degli ingredienti, ma ci vorrà circa un litro di olio, di semi di girasole, di arachidi, per fritture. Perché questi tortelli dovranno friggere per immersione. Scusate, per immersione. Non dovranno toccare il fondo, ma dovranno gonfiarsi, essere belli leggeri e buonissimi, vi assicuro. Spostiamoci pure ai fornelli. L'olio è bello caldo, portatelo a una temperatura di circa 170 gradi. Io ho fatto la prova con il cucchiaio di legno. Andiamo ad adagiare all'interno dell'olio una noce di impasto. Questo è un cucchiaio da 15 ml, corrisponde a un cucchiaio circa 20 grammi. Lasciamone cuocere pochi alla volta, per non abbassare la temperatura dell'olio. Scolateli poi con un mestolo forato, direttamente nello zucchero. Girateli spesso, anche per farli cuocere uniformemente da tutti i lati. I primi tortelli sono pronti. Scoliamoli bene dall'olio e trasferiamoli direttamente nello zucchero. Passiamoli velocemente nello zucchero. E poi in un piatto da portata. Questa procedura va fatta appena riscolate dal loro olio, cosicché lo zucchero si attacchi ben bene ovunque. Trasferiteli poi sull'impiatto e io continuo a friggere anche tutti gli altri. I nostri tortelli di carnevale sono pronti e sono pronti per essere tutti mangiati da noi. Io spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo domenica prossima e io procedo già anche all'assaggio. Buon carnevale a tutti! Veramente buoni! Inviaci richiesti e suggerimenti a www.cucinaconagnese.it www.cucinaconagnese.it